Ugone ereditò dal padre il giudicato e la guerra. Cresciuto in campo di battaglia, non aveva ricevuto l'educazione raffinata del padre. Era un uomo duro, difficile e arrogante. Non aveva paura di nulla, ma non seppe costruire rapporti con gli stati europei e venne isolato. Fu ucciso in un agguato una notte, mentre rientrava a casa senza scorta. Il suo corpo venne gettato nel pozzo assieme a quello della figlia Maria Benedetta. Grazie per la visione!